Un arresto a Marsala per rapina. Messina Denaro, capo indiscusso e protetto. La strada Mazzara-Torretta ancora al centro di polemiche. Il comune di Mazzara chiede collaborazione per il rifugio sanitario. Posidonia spiaggiata e marcita, a Selinunte arriva la macchina tritura alghe. Weekend florido di Vittorie per la scherma Mazzara. Buon pomeriggio dalla redazione di Teleotto, ben ritrovati al TG8 Informazione. Apriamo come di consueto con la cronaca. Un incendio doloso ha piccato la scorsa notte e ha distrutto un voluminoso archivio cartaceo in un locale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, che sorge in piazza Fleming a Santa Ninfa. Le fiamme sono state spente dopo alcune ore dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Un primo intervento è stato concluso ieri in mattinata, ma un secondo si è reso necessario due ore dopo e si è concluso alle 13.30. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un tecnico dell'ASP. Solo ferite lievi fortunatamente per un ragazzo di 23 anni che martedì sera si è andato a schiantare con la sua auto contro un palo in via Trapani a Marsala. Il ragazzo si trovava a bordo della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un palo all'altezza del supermercato Sisa ed è poi finito nella corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane rimasto ferito. Arrivato al pronto soccorso non sono state riscontrate però ferite gravi. Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Marsala a mettere in sicurezza la zona e poi i carabinieri per rilevare il sinistro e tracciare la dinamica dell'incidente. Efficace l'attività dei carabinieri di Marsala che ieri hanno tratto in arresto uno dei due malviventi i quali nel giugno scorso avevano derubato un invalido civile tentando anche di estorcergli la somma di 500 euro. Vito Bono I carabinieri della stazione di San Filippo di Marsala nella giornata di ieri hanno tratto in arresto dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Marsala Emanuele Mercurio, 25enne marsalese, responsabile di rapina e tentata estorsione in concorso. L'ordinanza della Tribunale fa riferimento ad un intervento dei carabinieri di San Filippo effettuato in contrada Birgini Valoro il 22 giugno scorso all'esito del quale venne arrestato in flagranza di reato Leonardo Azzaro, 25enne marsalese pregiudicato e denunciato proprio il Mercurio quale suo complice. Quella sera la centrale operativa della compagnia di Marsala infatti giungeva una chiamata di un cittadino che riferiva che poco prima il fratello, invalido civile, era stato vittima di una rapina presso la sua abitazione consumata da due soggetti travisati da passamontagna ed armati di cacciavite. Dietro minaccia i due malviventi avevano chiesto alla vittima dove fossero i contanti cominciando a mettere a suo quadro la casa ed avuta risposta che il malcapitato aveva esclusivamente 30 euro nel portafoglio lo minacciavano richiedendo la somma di 500 euro da consegnare il giorno seguente in contanti altrimenti ci sarebbero state ripercussioni su di lui. A modipegno per la futura d'azione di denaro i malviventi gli sottraevano i documenti presenti nel portafoglio. Considerate le descrizioni fisiche degli abiti indossati dai malviventi iniziavano le ricerche dei due fuggitivi, dei quali già si ipotizzava l'identità. Proprio presso il suo domicilio quella notte i militari individuavano Leonardo Azzaro mentre usciva dall'abitazione. Portato in caserma confermava spontaneamente di essere l'autore della rapina. L'esito dei successivi accertamenti investigativi condotti dai militari dell'arma consentivano di individuare anche il suo complice in Mercurio che veniva all'epoca deferito in stato di libertà per i medesimi reati di rapina in abitazione e tentata estorsione in concorso ed ora assicurato alla giustizia con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Continuiamo con la cronaca. Un uomo di 63 anni di Mazzara del Vallo è stato arrestato ieri dai militari della stazione Carabinieri di Ispica in esecuzione di un provvedimento disposto dalla procura della Repubblica di Marsala. L'uomo da qualche anno residente nella cittadina del Ragusano deve scontare una pena di un anno, sei mesi e dodici giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L'ignoto individuo che nella notte tra sabato e domenica 1 febbraio nel centro cittadino aggredì nel corso di un controllo un agente del commissariato di polizia di Alcamo procurandogli delle lesioni ha finalmente un nome e non rimarrà impunito. Si tratta di un pregiudicato alcamese di 21 anni, un volto noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona perpetrati nel territorio di Alcamo. Il giovane pregiudicato è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per violenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un agente di polizia giudiziaria nell'adempimento del servizio. Messina Denaro, capo indiscusso e protetto, è quanto emerge dalla relazione della DIA riferita al primo semestre del 2014. Nonostante la cerchia attorno al superlatitante si restringa sempre più, la sua egemonia in provincia di Trapani sembra rimanere incontrastata. I soldatisti mafiosi radicati nella provincia di Trapani tentano a mantenere un basso profilo di esposizione, preferendo agire secondo una consolidata strategia dell'inabessamento. Lo rileva la direzione investigativa antimafia nella relazione stilata relativamente al primo semestre del 2014, inviata al Parlamento e resa nota nei giorni scorsi. Gli investigatori evidenziano che la leadership rimane all'aditante Matteo Messina Denaro, tuttora capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano, il quale è ricercato dal 1993. La sua egemonia prosegue la relazione della DIA, continua a trovare riscontri nelle indagini a carico dei soggetti che gli sono vicini e che mantengono efficiente il sistema di protezione e favoreggiamento, anche attraverso interposizioni nella gestione di beni affari che soddisfano l'esigenza di mantenere stabili gli equilibri tra le varie articolazioni territoriali. Negli anni gli investigatori hanno arrestato una decina di familiari dei boss e decine di suoi sodali, indagandone numerosi altri. Nell'ultima operazione antimafia, quella denominata Eden 2, in carcere è finito anche un consigliere comunale, Lillo Giambalvo, sospeso per 18 mesi dall'incarico del prefetto e mai dimessosi. Nel rapporto si sottolinea ancora che nella sua ramificazione sul territorio Cosa Nostra ha mantenuto immutati i quattro mandamenti e le 17 famiglie. Le indagini hanno confermato che, come nel precedente semestre, gli interessi economici si sono focalizzati nel controllo dell'attività imprenditoriale degli appalti pubblici, nel racket delle estorsioni, con relativi atti di danneggiamento anche con ingenti ai danni di operatori locali, nel traffico di stupefacenti e in attività di corruzione e penetrazione alla pubblica amministrazione. Circa il traffico di droga vengono ricordate le operazioni del 25 e 29 giugno scorso che portavano alla procura d'arresto di 16 stranieri e a sequestro in tutto di 70 tonnellate di hashish a bordo di due diverse motonavi, entrambe battente bandiere della Repubblica del Togo e proveniente dal Marocco. I due sequestri confermano il canale di Sicilia come crocivia del transito di droga che è dal Nord Africa in Europa e in Asia. Le navi madre effettuerebbero le consegne anche in alto mare, trasbordando lo stupefacente o parte di esso, su pescherecci più piccoli diretti poi verso l'Italia, la Francia e la Spagna. Sulle estorsioni viene evidenziato che nel primo semestre 2014 hanno subito un calo, ma questo per la DIA non deve alimentare i facili entusiasmi, essendo funzione anche della maggiore o minore capacità delle cosche di evitare che le stesse vengano a essere denunciate. La Commissione regionale antimafia presieduta dall'onorevole Nello Musumeci terrà una riunione a Castelvetrano il prossimo mercoledì 18 febbraio alle 10 presso l'Aula Consiliare. L'incontro nasce su proposta dello stesso presidente Musumeci che ha chiesto ai sindaci aderenti al Consorzio un confronto per discutere delle problematiche connesse all'attività della Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. E la Sicilia sempre più lontana dal resto della penisola. Trenitalia ha deciso infatti di tagliare molte corse che permettono ai siciliani di oltrepassare lo stretto. Da 10 ne resteranno solo 4 tra andata e ritorno. Salvatore Giacalone. In barba alle mappe geografiche e alla comune credenza se per le ferrovie italiane lo stivale non si ferma in Calabria poco ci manca. Se Cristo si è fermato a Deboli i treni tra qualche mese si fermeranno poco sotto a Villa San Giovanni l'altra faccia dello stretto di Messina. Non tutti certo, ne rimarranno due. La Sicilia perderà i treni a lunga percorrenza e la continuità territoriale. Già i collegamenti dei treni in Italia erano stati ridotti al minimo con 10 corse tra andata e ritorno oltre lo stretto che tra 5 mesi diventeranno 4. E non solo per quanto riguarda la lunga percorrenza visto che negli ultimi anni sono state tagliate corse per qualcosa come 10 milioni e mezzo di euro. Una cifra enorme. A Roma qualche giorno fa c'è stato l'incontro tra i vertici delle ferrovie dello Stato italiano e il rappresentante sindacale dell'Orsa Sicilia per discutere del futuro dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia e del servizio di traghettamento con le nave ferroviarie nello stretto di Messina. Le ferrovie dello Stato hanno ufficializzato che con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario programmato il 13 giugno 2015 i servizi universali come i due treni intercity diurni Palermo-Siracusa-Roma e l'intercity notte Palermo-Siracusa-Milano saranno definitivamente soppressi. Per raggiungere il continente i siciliani rimarranno i due treni intercity notte Palermo-Siracusa-Roma. In alternativa, da quasi tutte le città dell'isola con un treno regionale dovranno raggiungere Messina e da questa, a piedi, la nave traghetto che li porterà in Calabria. La decisione delle ferroviarie dello Stato fa seguito alla mancata erogazione dei fondi statali 47 milioni di euro annui che lo stesso Ministero dei Trasporti aveva confermato già il 23 dicembre del 2014. Con voto unanime, il sindacalista Andrea Vanella è stato eletto presidente dell'Alpa Associazione dei Piccoli Produttori dell'Agro Alimentare subentrando a Gasperi Galfano. Andrea Vanella, 44 anni di Petrosino svolge attività sindacale dal 2003 anno in cui è entrato a far parte della segreteria provinciale del sindacato degli edili della CGL. La strada provinciale 38 Mazzara-Torretta-Granitola ancora al centro delle polemiche. Interviene questa volta il vice sindaco di Mazzara del Vallo Silvano Bonanno commentando assurdo che non si prenda ancora una decisione al riguardo ma sentiamo il vice sindaco. Questa amministrazione è molto attenta alle problematiche del territorio di Mazzara del Vallo e in maniera particolare mi riferisco all'SP38 in maniera particolare perché io ne sono stato testimone essendo stato sette anni consigliere provinciale e ho vissuto la storia di tutte le procedure che ci sono state per questa benedetta strada. abbiamo mandato una nota di protesta al commissario straordinario della provincia regionale di Trapani e ho chiesto un incontro con il commissario e aspetto risposte. È inconcepibile è veramente inconcepibile che questa diciamo litorane importantissima per la città di Mazzara del Vallo questa arteria che è di notevole importanza per lo sviluppo economico della nostra città ancora è incompleta e noi abbiamo chiesto con forza di essere noi competenti di questo territorio con tutte le risorse finanziarie che sono state messe a disposizione della provincia regionale di Trapani questo sta a indicare che questa amministrazione è consapevole delle responsabilità che ha ed è ferma nelle sue proposte e andrà avanti fino in fondo attiveremo anche procedure regionali e nazionali se questo sarà possibile se non ci verrà data una risposta in tal senso. Rimaniamo a Mazzara al termine della riunione di giunta presieduta dal sindaco Nicola Cristaldi è stata approvata la delibera di approvazione degli schemi di avviso pubblico e protocollo d'intesa per un accordo di collaborazione con ente o associazione di volontariato senza scopo di lucro con finalità di protezione degli animali l'associazione o ente che risulti in regola con i requisiti richiesti collaborerà in via sperimentale e per un anno alla cura e manutenzione del rifugio sanitario è previsto un impegno di 6.000 euro annui come rimborso spese nei prossimi giorni nella sezione bandi e avvisi dell'albo pretorio online del portale istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it saranno pubblicati gli schemi di partecipazione ma sentiamo l'assessore al randagismo Vito Billardello un ulteriore atto importante che abbiamo approvato in giunta e che prevede una manifestazione di interesse aperta a tutte le associazioni di volontariato che vorranno partecipare e che intendono poter prestare la propria opera all'interno del rifugio sanitario è chiaro che è un'ulteriore iniziativa importante che questa amministrazione sta mettendo in campo per la difesa degli animali e soprattutto per combattere il fenomeno del randagismo nella nostra città per cui questa manifestazione di interesse si aggiunge a tutti gli altri importanti provvedimenti che in questa direzione la nostra amministrazione sta mettendo in campo Il progetto Zero Barriere realizzato dall'amministrazione comunale di Mazzara ha ottenuto il riconoscimento di buon esempio alla seconda edizione del premio Persona e Comunità di Torino Sentiamo i dettagli Importante riconoscimento per la progettazione dell'amministrazione comunale in favore del sociale e dell'innovazione tecnologica Il comitato scientifico della seconda edizione del premio Persona e Comunità di Torino ha conferito la segnalazione di buon esempio per la sezione solidarietà e servizi sociosanitari al progetto Zero Barriere realizzato dal comune di Mazzara del Vallo Ufficio Innovazione La cerimonia di premiazione avrà luogo nell'ambito del convegno nazionale la centralità della persona nei migliori progetti della pubblica amministrazione e del volontariato che si svolgerà venerdì 27 febbraio 2015 a Torino presso il centro congressi della regione Piemonte L'importante riconoscimento conferma la bontà del lavoro svolto con il progetto Zero Barriere attraverso il quale è stata realizzata la certificazione online è stato attivato il wifi gratuito nel centro storico e sono state attivate alcune piazzette digitali negli immobili comunali Il progetto cofinanziato dall'Unione Europea è stato attuato dall'amministrazione comunale con la collaborazione della società Agile SRL e Faticoni S.p.A. Nel corso del progetto sono state coinvolte le associazioni che nel territorio sono impegnate nella promozione sociale con alcuni convegni ed azioni per accorciare il digital device soprattutto delle fasce sociali meno ambienti della popolazione Soddisfazione per l'importante riconoscimento viene espressa dal sindaco Nicola Cristaldi dal segretario generale Antonina Marascia e dall'assessore comunale alle politiche comunitarie Vito Ballatore che sottolineano il grande lavoro svolto dagli uffici innovazione e politiche comunitarie della città di Mazzara del Vallo coordinati dal tecnico comunale Maurizio Giacalone Si terrà sabato 7 febbraio alle ore 9.30 presso la sala convegni del Castello Arabo Normanno di Castellammare del Golfo un incontro organizzato dal Gale Limos per documentare le realizzazioni ed il lavoro prodotto in collaborazione con le amministrazioni locali ed altri soggetti pubblici e privati in questi anni finalizzato all'attivazione di processi virtuosi di sviluppo delle attività imprenditoriali e promozionali del territorio di riferimento La questione della Posidonia sul litorale di Selinunte sembra finalmente vicina alla risoluzione gli ammassi di alghe dall'odore nauseabondo saranno riciclati e destinati all'agricoltura Salvatore Giacalone Selinunte non sarà più la patria della Posidonia spiaggiata e marcita la nostra questione ambientale che tanto ha fatto discutere negli anni passati residenti di Marinella gli ambientalisti politici istituzioni almeno secondo quanto dichiarato dal sindaco Felice Arnante avrebbe giorni contati in arrivo una nuova macchina che dovrebbe risolvere il problema della Posidonia in accumulo nel porto e lungo il litorale dello scaro ovviamente si tratta di gestire le quantità eccessive di foglie che il mare da solo non riesce a riportare a largo questo nuovo sistema che è collegato al più ampio progetto Medicot finanziato dalla comunità europea e consentirà di riciclare la Posidonia essiccata e marcita generando compost materiale organico molto utilizzato in agricoltura e in altri termini le cosiddette alghe diserenute dall'odore nauseabondo diventeranno materiale fertilizzando per agricoltura consentendo al comune di risparmiare decine e decine di migliaia di euro e addirittura con la concreta possibilità di ricavare proventi dalla vendita secondo quanto affermato la sindaco errante la nuova struttura entrerà in funzione entro l'estate 2015 dovrebbe così concludersi il disagio derivato dalla Posidonia per tanti turisti residenti che nel periodo estivo erano costretti a passeggiare a due passi di vere e proprie dune di materiale in decomposizione questo peroso scenario è finito tante volte anche in diverse guide turistiche internazionali maggiori dettagli sul funzionamento del sistema del riciclo della Posidonia saranno dati dal comune al momento dell'installazione in ogni caso è opportuno ricordare che la Posidonia è anche un bene per la costa e non va del tutto rimossa si indaga da anni ma la scomparsa del fisico Ettore Maiorane è ancora avvolta nel mistero adesso però ci sono nuove rivelazioni la procura di Roma ha chiuso il caso sulla scomparsa del fisico catanese Ettore Maiorana archiviando la sua scomparsa come un trasferimento volontario ma sulla vicenda rimane il giallo il fisico catanese nato nel 1906 è sparito nel nulla la sera del 27 marzo 1938 in occasione di un viaggio sul piroscafo che da Palermo lo avrebbe portato a Napoli la procura di Roma che ha archiviato l'inchiesta riaperta nel 2008 dopo la puntata di chi l'ha visto è convinta di aver acquisito un punto fermo lo scienziato si trasferì all'estero permanendo in Venezuela almeno nel periodo tra il 1955 e il 1959 un trasferimento che il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani definisce volontario a determinare la riapertura delle indagini fu la testimonianza di Francesco Fasani un meccanico che al programma di Rettere e poi agli inquirenti affermò di aver conosciuto a Valencia nel 1955 Majorana che si faceva chiamare signor Bini all'epoca in cui era giunto in Venezuela come migrato Fasani riferì che Majorana era solito evitare frequentazioni assidue e che non gradiva contatti con i migrati italiani nel periodo di questa frequentazione Fasani si dedicava a ripulire l'auto di Majorana e a tenergliela in ordine perché spesso era ingombra di appunti e carte Bini Majorana si rifiutava di farsi fotografare tranne in un caso quando in cambio di un prestito di denaro di cui lo scienziato necessitava urgentemente Fasani chiese e ottenne di fare una foto insieme la foto è stata esaminata da Harris dei Carabinieri per la comparazione con i dati fisoniomici di Bini Majorana con quelli appartenenti al padre dello stesso scienziato Fabio Majorana quando aveva la stessa età del figlio il procuratore Laviani ha dichiarato che i risultati ottenuti dalla comparazione hanno portato alla perfetta sovrapponibilità delle immagini addirittura nei singoli particolari anatomici quali la fronte il naso gli zigomi il mento e le orecchie queste ultime nella inclinazione rispetto al cranio alla base di questo allontanamento probabilmente le inquietudini legate alle conseguenze e le sue ricerche di fisica nucleare in particolare sull'atomo cambiamo argomento ha preso il via ieri sera al teatro impero di marsala la cinque giorni di repliche dello spettacolo apriti cielo proposto dal duo comico Ficarra e Picone la pièce comica degli attori palermitani in scena dal 2012 con le naturali rivisitazioni si articola in due ore di performance in cui Salvo Ficarra e Valentino Picone fanno mostra delle loro in dubbie qualità artistiche da stasera e fino a sabato le repliche con inizio dello spettacolo alle ore 21 e 30 sei appuntamenti in nome della tradizione gastronomica del territorio e dei prodotti locali ricette tipiche e materie prime a chilometro zero saranno i protagonisti della rassegna Sabato in riserva che prende il via sabato 7 febbraio al ristorante La Fontanazza palcoscenico naturale della manifestazione la riserva naturale orientata a Bosco d'Alcamo il primo appuntamento è con la pecora bollita antica ricetta che un tempo diventava occasione per ritrovarsi intorno alla pentola fumante e che per questo primo appuntamento sarà protagonista del menù ai fornelli Gaspare Brucia giovane chef del ristorante per il ciclo appuntamenti domani 6 febbraio presso l'aula magna di via Uriani del liceo Adria Ballatore alle ore 11.20 si svolgerà l'incontro dal tema educare alla cittadinanza attiva relazionerà sul tema il dirigente scolastico emerito professor Francesco Fiordaliso presidente dell'associazione antimafie ed antiracket Paolo Borsellino Onlus all'incontro interverranno il dottor Umberto Di Maggio coordinatore regionale dell'associazione Libera e don Francesco Fiorino responsabile del progetto dall'esempio dei giusti di Sicilia un percorso per la legalità e lo sviluppo alla presenza dei commissari delle forze dell'ordine di Mazzara del Vallo e dell'assessore alla pubblica istruzione della città Adele Spagnolo la scuola di cancelling con approccio empirico sede di Marsala in collaborazione con il centro studi Michael Hardy organizza da domani all'otto febbraio il secondo seminario del percorso il tema di questo secondo appuntamento sarà il guardiano interiore a condurlo Charles Hauser consular trainer in approccio empirico e presidente del centro studi Michael Hardy sede del seminario via 11 maggio 43 presso i locali dell'associazione culturale OZIUM Liberi ed eguali? Pace immigrazione e disintegrazione è il titolo dell'incontro che si svolgerà sabato prossimo 7 febbraio con inizio alle ore 17 presso la biblioteca fardelliana di Trapani il primo di un ciclo di quattro appuntamenti che avranno ad oggetto alcuni dei diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che il vivere quotidiano la coscienza comune e i fatti di cronaca manifestano come dichiarati e non invece positivizzati e protetti sabato 7 febbraio con inizio alle ore 20 presso l'oratorio parrocchiale di rilievo è tutto pronto per la partita del cuore fra la squadra dei preti della diocesi è quella formata da una rappresentanza locale di appartenenti alle forze dell'ordine in campo in una serata di sport e fraternità per sostenere le adozioni a distanza delle comunità parrocchiali di rilievo e guarrato in Madagascar e dare un segnale di vera condivisione e solidarietà infine domenica 8 febbraio uno speciale appuntamento musicale al baluardo velasco da Napoli arriva uno dei gruppi di punta del nuovo sound partenopeo i FOIA un ricco curriculum artistico contraddistingue la grande qualità della musica prodotta in questi anni tutte le informazioni al botteghino del baluardo velasco espasio teatral aperto ogni pomeriggio dalle 17 ingresso riservato ai soci con posto unico al costo di 10 euro Siamo alla pagina sportiva nella tarda mattinata di oggi presso la clinica Villa Stewart di Roma e alla presenza del medico sociale del Sassuolo dottor Paolo Minafra e il professor Pierpaolo Mariani ha sottoposto il difensore neroverde Emanuele Terranova ad intervento e di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro l'operazione è perfettamente riuscita Un weekend florido di vittorie per la Mazzara Scherma ASD Sentiamo Vito Bono Un fine settimana ricco di risultati e successi per il vivaio della Mazzara Scherma ASD e per i maestri Gianfranco Antero e Rosa Inzirillo Si è infatti disputata a Santa Venerina in provincia di Catania la seconda prova regionale riservata alle categorie Under 14 Gara perfetta per Andrea Guardalà categorie Prime La Mesciabola e Claudio Guardalà categorie giovanissimi Sciabola che hanno dominato letteralmente i loro avversari conquistando con grinta e determinazione il gradino più alto del podio Ottimi anche i bronzi di Gioele Colombo categoria giovanissimi Sciabola Nicolo Tranchida categoria lievi Sciabola e Clara Pignoli categoria bambine Sciabola Buono il decimo posto di Vito Manciaracina che per un soffio non riesce a piazzarsi nella finalissima ad otto perdendo il match decisivo per 15-14 Per Claudio Guardalà questa è già la seconda vittoria ed è quindi matematicamente campione regionale per la stagione 2014-2015 visto che l'assegnazione avviene al meglio di due risultati su tre gare in calendario Andrea Guardalà dovrà invece attendere l'esito della terza prova che si terrà a Messina visto che con questa vittoria ha in tasca un oro ed un argento proprio come il suo amico diretto contendente al titolo Riccardo Ingargiola dell'Accademia Scherma Palermo Anche per Clara Pignoli e Nicolo Tranchida si dovrà aspettare il risultato di Messina per vedere di riuscire a conquistare il titolo di campioni regionali Siamo stati decimati da influenze e malattie ed è per questo che siamo arrivati a Santa Venerina con pochi atleti in gara afferma il maestro Gianfranco Antero Nonostante questo ci siamo confermati fra le migliori società schermistiche presenti sul nostro territorio Torniamo a Mazzara consapevoli della nostra forza e pronti ad iniziare i duri allenamenti in vista degli impegni in campo nazionale del nostro vivaio Under-14 ovvero il campionato italiano Under-14 a squadre che si terrà a Salerno e poi la seconda prova nazionale che si terrà a Sansevero Lo sport club Marsala 1912 comunica che con effetto immediato e sino a nuova disposizione tutti i tesserati dirigenti dipendenti e collaboratori non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione conseguentemente le partecipazioni a trasmissioni radio-televisive anche se già concordate sono annullate o sospese Termina qui il TG8 e informazione noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata Grazie a tutti